lì dove siete? Com'è che state? Ci state bene? E state! lì dove siete? Com'è che state? Ci state bene? E state! Non mi si vede nella videocamera. Non troppo bene perché... 24 ore da ieri a quest'ora, dalle 7 alle 7, noi abbiamo registrato dalle 7 ieri, oggi sono un'altra... Là c'è Daniele che fa i deficienti, se vuoi vieni qua e ti unisci a noi. Allora, ieri sera la serata l'audio è partito quindi a sgolarci con la voce. Però ce l'abbiamo fatto. Però ci l'abbiamo fatto e si sono divertiti. Stamattina com'è andata? Barzellette, cosa ho sparato di barzellette ieri sera? Ho raccontato anche della mia vita quando sono nato ed è tutto dire. Forse è meglio di 100.000 barzellette. Un giorno forse ve lo racconterò. Forse. Forse. Se ne sarete degni. Allora, la colazione stamane? Stamane. Sempre uguale. Lei ha perso qualcosa oggi? Io cambia. Ancora no. Ancora no. Non ha perso. Fortunatamente ancora siamo viti. Anche se gli abbiamo nascosto le chiavi e il burro a cacao durante il pranzo. E gli è venuta la stizza e l'avevamo perso. Tu che vuoi dire? Che cosa vuoi raccontare? Che ho cambiato colazione. Di solito la faccio con la pesca, la parmellata, di pesca e quello che è. E invece ho fatto la Nutella stamattina. E invece tu? Io sempre con la Nutella perché la Nutella è la Nutella. Non si cambia. Poi lei a pranzo ci ha abbandonati. Sì. Tutti ci ha prenduti. Poveraccia, guarda. Scusa, la gente mi invita, non ci devo andare. Sì, col giravita la invita. Mentre invece lui ha rifiutato il pesce spada. Non si è mangiato il pesce spada, ragazzi. Era buono. Tutti le si mangiate i due. Ma è per non far capire che magari... Ritorniamo indietro nel mangiare che ci hanno fatto. Non si può mangiare. Non si butta niente. Si butta niente. Basta che c'è Daniele in giro e non si butta niente. Poi abbiamo... Luca vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vi presentiamo il bagnino della situazione. Vieni qua. Ciao. Non ti preoccupare. Allora, lui... Ciao. Lui è Luca. Aspetta, non si vede nella videocamera. Non si vede. 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 Il bagnino della situazione. Vieni via via. Magari giorno dopo giorno allarghiamo questa compagnia delle nostre dirette. Come un album di figurine. Già sei che sta andando. Ciao. Ieri sera... Ieri sera... Oltre alla sera della tua vita. Quando è finita la serata... Poi vedrete, vi faremo vedere quando caricheremo su YouTube, quello che è successo nel post-serata. Bagno di mezzanotte. Scommesse che si sono fatte. Altre che non si sono rispettate. Scommesse. Vedrete, vedrete, vedrete nel video quello che metteremo e pubblicheremo. C'è Daniele che è terrorizzato di questo video. E invece poco fa abbiamo provato la pizzica. Mamma. È stata un'esperienza. No, pizzica, no nel senso di pizzicoso. 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 No, pizzica in questo senso. No, la pizzica quella ballante. O che pizzica? Barese. È una tarantella della Puglia. C'è la nostra amica che con la tamburella farà la pizzica tamburellata. E loro due stasera si travestiranno. È una tarantella. È una tarantella. È una tarantella. È una tarantella. C'è la batteria che ti scarichiamo. C'è i bastoni qua. Vogliamo dire altro? Vogliamo salutare qualcuno? Tu hai qualcuno da salutare? Mamma. Lei saluta la mamma, tu? No, non saluto la mamma. Signora non la saluta. Sta scherzando. Sta scherzando, non la saluta. La nona saluta. La nona saluta. Ah, la nona. La nona, la grammata. La mamma, la nona, il babbo, la nona. Io ti voglio salutare. Io ti voglio salutare. Fondamentalmente i miei amici. Ah, i miei amici. Che non stanno guardando. Eh, ma ti guarderanno dopo. Guardaranno in un secondo momento. Il video precedente abbiamo superato oltre 600 visualizzazioni. 150.000. 152. E le tue quante sono? Non lo so. Non lo so. Saremo già intorno ai mille visualizzazioni. E poi? E poi niente. Abbiamo fatto la mia madre. Ciao qua. Ciao qua. Abbiamo dimenticato che abbiamo fatto la pasta di sale. Lui ha fatto la pasta di sale. Domani facciamo vedere i risultati dei bambini che hanno fatto la pasta di sale. Noi siamo qua ad Amantea. Ma no. Per conto di quale agenzia lavoriamo noi? Qua è l'agenzia quale? La nostra come si chiama? Si chiama? Di ammazzo. Come si chiama? Carimbian. Carimbian staff. Carimbian staff. Noi siamo Daniele. Federico. E Desiree. E Derizè. E Derizè. E Derizè. E vi salutiamo e vi invitiamo a venire qua all'hotel marechiano. Dovete venire qua. Dovete. E andate in vacanze. E andate a Lido in piscina. Soprattutto la nostra agenzia. 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 Ma l'avete visto le magliette rosate? Oggi rosa. Rosa fucsia. Devo fare ragione. Ragione. Ragione come voi. Non so. Beh basta di roccare lì indietro. Si comunque è lì. Si sai sai. Quindi. Diamo il saluto e ci aggiorniamo a domani. Ciao. Ciao Ne. Io scontaglio così. Ciao. 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 ussuna buona durante un好好. Come? Così. Ciao. Ciao. La ferna non può inviare a tutti. La ferna non lo sento che sarà possibile. Ti sottotolo da lì indietro, ��다 non pelleà. Non i due bei non sono vere. Ho visto. No, 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 no. Desiree? Daniele? Questa volta? Yeah! Daniele! Daniele, guarda che ce l'ha qua! Saluta, saluta Dio, ciao! Saluti, Andoni! Lì dove siete, com'è che state? Ci state bene e state! Lì dove siete, com'è che state? Ci state bene e state! So, passate! Sì! Sì! Sape la vicenda! Sì! Grazie a tutti